Ragazzi bentornati e bentornati sul mio canale, io sono Magnus, ritorniamo sempre qui su Destroy All Humans Credo che proprio adesso stiamo iniziando a capire e intuire più le dinamiche del gioco Anche come in un certo senso far soffrire le persone Direi di avviare questa nuova missione, aspettate però che forse possiamo Sì Vediamo se possiamo migliorare qualche cosa Disintegratore, non credo lo possiamo, no 2000, porca misera Analizzatore, aumenta la finestra di tempo per su andare con successo Detonatore, non sarebbe male ma non lo possiamo ancora potenziare Scudi, pacchetto potenza scudi, aumenta l'esistenza dello scudo di Kripto Forse sì, anche perché forse lo scudo non è tanto potente Vai Sono ritornato alla misa quella là un po' più colorata Mamma mia Gli alieni mi hanno rubato il tronco cerebrale Fa un po' impressione Mi lascio il piletto quando si accende verso andare al bersaglio, restare il cervello alla morte del bersaglio mi fa vedere il mio questo, scusa aspetta ma funziona così questo, non capisco no, non funziona così ma dicevi RT? vabbè, comunque raccogli del DNA fresco, sì sì, aspetta, capisci scusa questo, che palle pensa alla macchina, guarda, che già fa il fumo e fa schifo ok, uh, penso che stanno arrivando, attenzione, attenzione qualcosa l'ho raggruppato, vabbè, devo raccogliere questi cervelli comunque usa l'analizzazione, dovete essere umani ma mi hanno già visto porca miseria, ma sul serio allora, aspetta un attimo che... ops, mi hanno preso ok eh, ma mi stanno prendendo pardon, pardon ok io mi sposterei, dai, sono qua ah, ma sai, tutti quanti qua guarda che è qua ma qui è la macchina della polizia allora, che è quello? ok ma quello non capisco, che cavolo è? se riusciamo a camuffarci, forse è meglio comunque che palle allora, facciamo così analizzatore, disintegratore ok ok ok, l'ho preso porca paletta, porca mi sto dirigendo a una parte, non so dove secondo me sarebbe la cosa migliore riuscire a camuffarsi in qualche altra... ma è staglia aspetta, guarda pardon, vediamo se riusciamo a camuffarci prendo le sembianze di qualche essere umano ecco qua wow, state tutti quanti qua, ragazzi ok, attenzione oh ma di più a stare così ok ma stai prendendo, che dici? in seria ma... vai forse stiamo un po' esagerando andiamo a raccogliere, sicuro non ce l'abbiamo, se non ce l'abbiamo più allora, qua ce ne sta qualcun'altra facciamo le spodre ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai perfetto chi è questo che sta qua dietro da 20 minuti? fatemi un po' ok ma che acqua c'hai nella piscina? sembra... uuuu uuuu guarda la miseria ma che ne siete, ragazzi? non so che cavolo è successo a questo vecchiato? si allora, spostiamoci se riuscissi veloce, veloce, veloce veloce veloce, veloce ok, così ci recuperiamo un po' di energia no ancora qua ma quanti ne siete, ragazzi allora, tu c'è una eh, lo so, fa male, fa male, fa molto male arrivo, eh poi c'è qualcuno che c'ha un tremendo spostiamoci, spostiamoci di qua se riusciamo a prendere non esplode, non esplode, vai, esplode, esplode, esplode ok, è andato allora aspetta che mi stanno sparando e me vediamo un po' se riesco a prendere il cervello ce ne andiamo vai, rapido, rapido quante me ne mancano anche ora? che cosa sta l'altro? non lo so ok, sta allora, vorrei un attimo mi stanno tormentando tremendamente ok allora, uno sta qua ovviamente là ce ne stava anche un altro ok ma dove c'è? ah, ok è andato, è andato è andato mamma mia, quanti ce ne stanno? vai, rapido, rapido, rapido ok ragazzi, fate bravi allora, me ne servono alcune di da praticamente vediamo se ce la facciamo che stiamo quasi schiattando riuscissimo un attimo a camuffarmi sarebbe fantastico andiamo, andiamo, andiamo secondo me dovevamo attuare una tattica un po' più silenziosa ok, poi ce ne stiamo altro ok no, penso che l'acqua mi faccia un po' male ok no, vai allora, stai un po' esagerando ma anche una puzzi malta miseria ce ne stiamo di qua ok, sta qua quasi fatto, penso ne manca per soltanto uno ma che c'è? bazooka wow, direttura po' il chiaro armato uh, la miseria ok, questo è l'ultimo beccati tutti mamma mia beccati tutti ma stavamo volendo però mi sono riuscita ma però aveva fatto tutto il cecchino bassino colpisce anche ora 16 morti per l'attacco dell'assassino deforme a clan street diciamo che ce la siamo cavati diciamo però allora abbiamo oh vabbè, io potenzierei il disco volante però il disco volante vi dico la verità non lo stiamo quasi mai utilizzando questo cosa fa? il generatore di scudo ma io sinceramente non lo potenzierei ancora questo scudo perché obiettivamente non è che lo stiamo utilizzando andiamo sempre di crypto che forse è anche il migliore per i cinesi no non mi hai sblocchiato niente questa cosa è? il generatore neanche qua posso sbocchiare schiatto scattare attiva una piccola onda d'urto che respinge i nemici e defette i proiettili eh essendo lo schiatto promette a crypto di usare lo skate sul terreno per un periodo oh aspetta questo è 1250 penso di sbloccare tutte e due ok penso così dovremmo farcela allora si è sblocchiata un'altra missione? sì di Iceland suburbia vediamo non mi fa pentire scatto B mi pare si faceva moda fast food americana licenziati del governo in cucina per la lotta al comunismo vedete non stiamo utilizzando mai praticamente disco volante cripto you're going to investigate the activities of the human scientists I want to establish the connection with the majestic scansione licenziati ok oh mamma mia ma state proprio cioè e che chiave ok bel mare allora vediamo di stare attenti ok allora scienziato non credo che siamo scienziati questo ah ce ne sta uno di qua ok andiamo di non farci fregare perché ho paura che ma 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 ok questo è uno scienziato ok questo special season ha successo beyond my wildest dreams queste persone sono ora rabbi paranoico e incredibilmente hostile per qualcuno che è different e come un beneficio non espedito 78% di loro sono registrano si però vogliamo di fare un fretto perché sennò qua attenzione qua buonasera signorina cosa pensa cosa sta facendo lei c'è ragione anche le gambe non sono male allora lo scienziato si sta dirigendo la bussalta va eccolo ok ok dobbiamo stare attenti che sta qua dentro lo scienziato come lo becco lo scienziato da qua dentro ok 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 ecco qua qua grande credo sia l'ultima quello vai veloce ce la faccio ok da qua ce la faccio si E' vero che i scienziati sono responsi per fare le schemi di Venezia Population Control. Normalmente io vorrei chiedere a te di destruire i scienziati, ma ci hanno un problema più grande. La gente dice che vengono tutti i scienziati. La gente usa i lavori di lavori di prodigione dei prodigioni di popolazione. E' vero che si sta lavorando. Se ogni umano in questo lato si diventa paranoico e hostilico, si rende la vita molto difficile per noi. Attenzione, eh Che ti bussi Oh, ma nessuno se ne accorge che c'è un disco volante, là, ma siete Pure di testa, praticamente Questo me lo prendo, eh Cioè, è fantastico Cioè, c'è un disco volante parcheggiato qua, nessuno se ne accorge Ma state completamente... Ah, beh, ma niente, dai Entra Distruggi Ah, eccovi a cosa serviva, vabbè Ok, ragazzi, penso che... Chi è che mi sta sparando? Io non capisco perché a volte... Un è andato, eh Attenzione, attenzione Attenzione che mi stanno leggerissimamente sparando Assorbimento No, mi guarda che assorbi, eh Ti dico la verità Ok Ah, li sto assorbendo da qua, ok Andiamo di qua Assorbiamo Licenziati Ok, penso di avere distrutti quasi tutti Sì Uh, uh, uh C'è qualcuno che è munito di arma potente Aspetta, dobbiamo ristruggire a fare questo È andato Oh, no Grazie, grazie a Dio, grazie a Majestici, Silhouette ha l'armi per fare qualcosa di vero per una volta, prendi alcuni carri e andiamo a prenderli, provi a farmi Se non è un po' si schifano tra di loro, penso anche tanto Ristruggire le risorse dell'esercito Ok Destruire questi veicoli prima di lasciare la peninsola Ma va bene anche la macchina della polizia, penso Allora, a chi la lanciamo questa? Anche in fiamme, la lancio a voi ragazzi Ma non è andato come speravo E la rilancio Ok Vediamo se ci sta qualche altra cosa di qua Ah, infatti Allora, di qua che c'è? Non vedo niente Ah, ecco Che cosa abbiamo rimbalzato? Non lo so Porca miseria Mi stanno bombardando con qualcosa di esagerato Mamma mia Ok, devo rimbalzarlo, se no Ok Devo riuscire a rimbalzarli sempre In seria Ci sta qualche altra cosa che dobbiamo colpire Siamo quasi schiattato Ok Occhio Occhio E dorme, dorme Mi dite che sono morto? Non ce l'abbiamo fatta, no Ok È andato Ci siamo? Sì Ragazzi, ma la siete parecchie Arriva, arriva Porta dentro la gente Ok, ok Qui qua Ma poten... Poten... Aia Wow, wow, attenzione Oh, attenzione Occhio No Siamo morti, penso Ok Allora, devo atterrare Ah, forse è capito Dobbiamo aprire Allora, facciamo così Guarda Mi tolgo di mezzo Un po' di questo qua Uh, addirittura Perché Secondo me È un po' troppo armato C'è un po' troppa gente qua Magari vediamo di non ammazzarlo Perché Non sarebbe una cosa buona Mamma mia Ok, pensano ne fatti fuori parecchie C'è che mi sta sparando anche ora Aspetta Ne sta ancora qualcuno Ancora Ok È andato È andato Vieni qua Vieni Ma quando ribalza Non gli torni indietro No Ma stanno sta cosa Allora Penso di aver ammazzati parecchi Così Adesso ci possiamo avvicinare Che dici Però lui sta qua Ma per atterrare Devo per forza atterrare laggiù Che è che mi sta sparando anche ora Vediamo se devo atterrare Ma non credo che devo atterrare Ancora Quaggiù devo atterrare Atterra Sì Vabbè Allora Facciamo così Perché mi dai sempre a questo Poi non lo so Dai Che non mi avete visto Che palla Allora Mi serve uno Che passa inosservato Sì Vabbè Questo passa Ne ho salvato Lo è In senso che qua ci sghiamano No Ma cosa è successo Ancora Ucchia No Allora Mi avete rutto Vi dico Avete Basta Allora Amare estremo Estremo di noi Forza Allora Devo catturare a questo Ti togli Ma la vuoi L'ombrellone in testa Ok No No Così ti ammazzo Penso No Così no Ammazza C'è una cosa fortissima No Nell'acqua no Mi stava quasi Ammazzando Ok Lo devo catturare Lo catturo così Dai Spero di averlo Di catturato così Hai perso il cappello Mi dispiace Sono mortificato Stai senza cappello Stai Ma mi raccomando Speriamo che rientri dentro Ok Pensare se è entrato È entrato È entrato È entrato Che catturare a questo Che catturare a downed furon scout ship A what? Sorry Let me put it in baby talk A flying saucer Crashed somewhere Or captured I don't know what you're talking about Of course not What do you know about Majestic I know we're gonna kick your little green ass all the way back to Mars I'm not These weapons Where are you making them? How many agents does Majestic have? How many other towns are you in? Son of a Don't get mad Get sadistic I think this calls for the jumbo pro Voila son da jumbo Ops Hurt Don't you Monster boy You want it to stop Then give daddy What he needs Mind Control Experiment Rockwell Movies Piron DNA Area 42 R Che morto É Beccare We're going back to Rockwell for the last time in a second hold still monkey boy let me just ah ma le ha terrorizzate ok missione è uscita non so se siamo riusciti a fare tutto infatti di uscite risorse all'esercito qualcosa l'avevamo persa agente governativo rapito i sovietici negano la defizione di una spia qui la prossima missione che andiamo a drive in ma chi può dirlo vabbè ragazzi anche questa parte termina quindi adoramento a vostro video qua sempre su per commento un bel interno ci vediamo al prossimo video bye al prossimo video Grazie a tutti